Ciao ragazzi sono Ninjaiper e in questo video finiremo il Brawl Pass, ma per farlo dobbiamo fare una semplicissima missione di vincere 8 partite con Tara, di cui non ho già 27, quindi manca l'ultima, la facciamo in Candidate del Giorno Sopravvivenza 2 e vediamo cosa succede. Ok, stranissima la mappa, jumpiamo, andiamo nel trasporto verde, e attenzione, 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 sopra proprio la Tara con la mia skin, io visto che siamo rallentati non saprei, proviamo a continuare avanti, e poi arriviamo al centro della mappa, andiamo sempre avanti. Adesso io cercherò di prendere i power up, però ci c'è tanta gente, quindi non credo che ce la facciamo, e poi Edgar dice i power up, però l'abbiamo killata, attenzione, e io sono morto, vediamo ora cosa succede. Ok, scontro finale, quindi missione assicurata, facciamo il gadget, proprio quando sono nato l'aggo. Vabbè, l'importante è che abbiamo finito la missione, anche perché qui non si fanno trofei, non si vincono, quindi siamo proprio a posto. Ok, sono nato e ho killato, e vabbè Edgar, però a posto di G19 power up ovviamente ci killa. Adesso, perfetto, andiamo nei menu, missione completata, andiamo a vedere il pinpack innanzitutto, però prima mi prendo la reazione di Buzz. Ma prima di prendere il pacchetto di reazioni, prendiamoci Buzz Canaia. Skin bellissima, tra l'altro vi ho fatto pure il video dove c'è la band rock di Brawl Stars, andatelo a vedere che lui è uno della band. Eccolo qua, Buzz Canaia, tra l'altro l'avevo già fatto a 656 trofei, quindi top. Adesso il momento del pinpack. Come sapete voi, il pinpack trova sempre reazioni abbastanza schifose, quindi io non saprei che dire in questo momento. Vabbè, andiamo, un'epica please? No, ragazzi, ma due di Edgar e Penny che piange. Adesso io ho tre di Edgar, sapete? No, ma lo sapevo, sempre molto schifose mi dovete dare, Supercell. Adesso ho completato il set, totalmente in un pinpack, due reazioni di Edgar, tranquilli ragazzi, non è la prima volta che mi succede, quindi selezioniamocene, Edgar arrabbiato. Vabbè, così sono tutte le standard. Penny che piange, carina però, che ti devo dire? Vabbè, ragazzi, lo sapete, tanto Ninja Iper è sempre sfigato al top, con il 100% che nei pinpack trova solamente le motte più schifose che del gioco. Tra l'altro io ho solamente le motte epiche, quindi non saprei che dire, ma è sempre le motte schifose. Comunque, like, iscrizione e campanella, al prossimo video, ciao! Ciao!